Allora Samuel, da Casto in partenza, qui siamo a Nozza, da Comero in partenza per l'adunato degli alpini di Trento, partite oggi, partite questa sera? Adesso, stiamo partendo adesso, facciamo un piccolo rinfresco e poi partiamo. Quanti chilometri ci sono? Sono circa 120, 120, 125. E quanti siete? Siamo in quattro. Mi ricordi i nomi? Allora, io, Samuel Pedersoli, Luca Petrosino, Giordano Freddi e Alessio Bettinsoli. Non è la prima volta che andate in bicicletta all'adunato? No, purtroppo no. Abbiamo fatto l'anno scorso l'avventura con il Risho e purtroppo è andata come è andata, però è stata bella l'esperienza. Quando fate conto di arrivare? In teoria domani sera, tempo permettendo. E dove dormirete? Per strada. Siamo attrezzati con la tenda, parcheggiata sulla bicicletta e per strada. Ci vediamo a Trento? Speriamo, speriamo dai.